Bella, sorridente e sensuale. Su Red Carpet del Festival di Roma in lungo Laura Chiatti presenta Il volto di un'altra, pellicola firmata da Pappi Corsicato, una commedia grottesca sull'effimero mondo dei ritocchini. Lei è Bella, la conduttrice di un celebre programma tv sulla chirurgia estetica, assetata di potere e pronta a tutto pur di conquistarlo, licenziata dalla produzione perché il suo volto ha stancato. Nel film con Laura c'è il fascinoso Alessandro Preziosi, nei panni di un aitante chirurgo plastico che opera in una clinica privata per pazienti ricchi, sperduta tra i mondi.